Sfioro l'idea di realizzare compositivamente una canzone da cantare in coro però mi rendo altresi conto quasi immediatamente che momentaneamente sto da solo e per cantare in coro il presupposto necessario mi sembra anche normale che ci sia più di una voce a far da controcanto a quella che fa il tema principale e qui almeno al momento la situazione non mi sembra proprio Grazie a tutti Grazie a tutti